Il Napoli vince 2-0 in casa del Torino, vantaggio azzurro al decimo minuto con Bakayoko con un destro della distanza, e raddoppio di Osinem in contropiede al tredicesimo. Tre punti importanti per gli azzurri che, così, ottengono un altro successo fondamentale in chiave Champions League mentre i Granata restano in zona retrocessione. Grazie per la visione!